Tiziano Ferro, stop dimentica, quando sono le 15.05 qui su Radio Roma e questa è sempre Radio Roma Magazine. Ho visto che avete fatto dei flash sportivi, lì faremo più tardi, quindi daremo degli aggiornamenti, ma ora subito una presenza meravigliosa, già seduta qui, inquadrata, ospite da noi in studio a Radio Roma. Benvenuta, benvenuta. Ah, lei direttore? No, no, no. C'è di meglio. C'è di meglio perché la vedete nella sua bellezza, ma anche nella sua grande bravura. Pamela D'Amico, ben trovata, buongiorno, buon pomeriggio. Buongiorno a voi, grazie di questo invito splendido qui. Grazie, grazie a te. Sei un'artista molto versatile perché sei autrice, cantante, conduttrice, veramente un'artista poliedrica, possiamo dire. Ci provo. Anche speaker? Anche, sì, perché ricordiamo, quanto tempo, un paio d'anni, mi sembra, Pamela, possiamo dire, dove eri, diciamolo. In Radio 2. Sì, Brasil, la trasmissione che unisce l'Italia con il Brasile, diciamo il mio mondo. Ho avuto questa fortuna di approdare. E quanto hai fatto, mi sembra, due anni? Abbiamo fatto una stagione, sempre nel palinzesto estivo. Beh, una bella esperienza. Prima di entrare nel dettaglio parleremo del tuo ultimo brano e singolo. Com'è stata l'esperienza a Radio 2? Guarda, unire il canto con la conduzione per me è stato un sogno perché ho sempre adorato parlare, no? Anche troppo. Mi hanno sempre detto, tu parli troppo da sempre, da quando ero piccola. Però poi in studio avere anche l'onore di poter interpretare i brani in italiano e portoghese, e devo dire anche complicato, perché parlare e cantare si utilizzano due parti del cervello diverse, perlomeno io, quindi andarle a mixare, a mischiare, mi ha richiesto molto lavoro, però tanta soddisfazione. Tu sei un'artista molto apprezzata nel nostro paese, in Italia, e non solo, perché sei un'artista internazionale, quindi hai un grande talento e sei un personaggio prezioso per l'arte, ma non solo, perché hai una profonda umanità. Posso dirlo? Io lo posso dire. Alessandra, la tua luce e la tua bellezza mi mettono in profonda emozione, diciamo così. Ti ringrazio di queste parole, poi sincere, perché sai che io ti stimo da sempre e ti voglio anche bene, quindi vale il doppio. È vero, c'è una stima reciproca, è un affetto, ma tu sei veramente così, perché scavi ed entri nel profondo, come persona soprattutto, prima che come personaggio, che è molto importante l'umanità. Ritrovarla dopo questo anno di pandemia, insomma, non è semplice. Entriamo proprio invece nel dettaglio artistico, perché tu ci presenti oggi e fra poco vedremo anche il brano e vedremo il video, un brano importante, molto intenso, vivo nel mondo. Si affrontano tematiche importanti, come le tematiche ambientali, si parla di ecosostenibilità, di transizione ecologica. Voglio ricordare che hai in collaborazione con l'Alleanza Italiana per lo sviluppo sostenibile. Esatto, l'ASVIS, che ringrazio di aver scritto con me questo brano e di aver pensato con me questo video che chiamo la rivoluzione della semplicità. Abbiamo voluto parlare ai giovani e per la transizione ecologica con parole semplici, soprattutto perché il testo è molto diretto, su un ritmo brasiliano, perché ho ritenuto indispensabile avere la necessità di ballare sul mondo. Abbiamo tutti bisogno di tornare a viaggiare nel mondo, ma questo mondo soffre, non possiamo più nasconderci con la testa sottoterra, no? Dobbiamo uscire fuori e agire per curare il nostro pianeta. E in questo l'ASVIS ha la responsabilità di attuare la famosa Agenda 2030 nel nostro paese. E questo è l'obiettivo, è uno degli obiettivi del progetto artistico. A chi è rivolto specialmente? Perché è molto importante informare. È rivolto ai giovani, quindi poi a tutta la popolazione del mondo, perché il Ministero della Transizione Ecologica attuerà delle politiche a favore di una realtà sostenibile, quindi senza sfruttare più le risorse della terra, a favore della salute, senza inquinare più l'aria e i mari. Ma poi in realtà tutto spetta a noi, alle nostre azioni, e quindi è rivolto a tutti quanti noi. Hai apprezzato il nuovo Ministero della Transizione Ecologica, ma anche le assessorati regionali, anche in Regione, Lazio c'è l'assessorato alla transizione. Hai apprezzato questo interessamento a livello istituzionale? Se posso, scusate, tra l'altro in ASVIS il portavoce era l'attuale Ministro Giovannini. Quindi, insomma, c'è stato un bel passaggio da un'associazione, da un ente, da un organismo che porta avanti certi valori, a una persona che l'ha rappresentata, credo, degnamente, e adesso è approdato quindi anche a un Ministero nazionale del nostro governo. Insomma, un bel passaggio. Sì, quando una cosa, secondo me, limpida e giusta, alla fine accade. Nel senso che la bellezza di cui parla Dostoievski è proprio l'umanità che salverà il mondo. E questo è quello che l'ASVIS porta avanti da sempre, e ovviamente in una prestigiosa voce come quella dell'attuale Ministro, anche Giovannini. Assolutamente. Tu come artista avevi questo desiderio di comunicare questi temi? Sì, Alessandra, da sempre, perché essendo una sensibile, chiaramente, come molti artisti, mi faceva molto male vedere come il mondo soffre. Quindi vedere ogni volta che qualcuno sta male, perché respira male, perché questi mari sono inquinati, gli animali che soffrono, sono tutte cose che mi hanno sempre colpito. E quindi a questo punto ho detto, no, io devo fare qualcosa. La musica, l'arte, può fare tanto, perché attraverso la musica possono passare dei messaggi che altrimenti, magari a livello istituzionale, possono diventare pesanti, perché spesso si sentono ripetere queste frasi, ma non arrivano mai al cuore. Allora, attraverso la voce, la musica, riusciamo a fare questa alleanza, questa preghiera che ho messo nel video, che rappresenta l'alleanza interna dell'essere umano e anche fuori, quindi la nostra connessione necessaria per realizzare tutti questi progetti. E utilizzare, veicolare attraverso la musica questi temi importanti arrivano anche in una maniera più semplice, più condivisibile. Pamela? Sì, arrivano in maniera un po' più diretta. Abbiamo messo nel video dei bambini, perché la rivoluzione della semplicità, cioè i bambini sanno subito da che parte girarsi, esattamente come un girasole. E proprio la musica, insieme alla natura, hanno in comune la pazienza, l'ascolto, perché ci vuole tempo per creare una canzone, una melodia. Ci vuole tempo per scrivere una sceneggiatura, per sognare. E ci vuole tempo affinché un albero cresca e ci dia fiori, frutti e ombra. Ma l'essere umano senza questa connessione non può vivere. Questo lo dobbiamo capire, questo. In una società così frettolosa, così liquida, come diceva Bauman, è una società liquida e siamo arrivati all'usa e getta, frettolosa. La pazienza è un elemento importante da coltivare e riportare oggi. Una cosa bellissima, Alessandra, che noto quando vado in giro, che io amo tantissimo parlare con la gente. È stato sempre questo il mio stimolo, parlare con la gente, ascoltare le persone, le loro storie, quello che soffrono, quello di cui ridono. E questo mi ha sempre nutrito poi per la mia musica, per quello che cerco, insomma questa goccia in un oceano, perché siamo tanti e spero che saremo sempre ancora tantissimi. E mi stupivo quando ascoltavo due ragazzi parlare qualche giorno fa dicendo che bello, andiamo a prendere un aperitivo e ci mettiamo a prendere un raggio di sole. Allora qualche anno fa questo non ci faceva specie, non ci avremmo fatto caso. Oggi sembra un sogno riscoprire quelle piccole cose che ci nutrono. Vedi come è bello, no? Tornare alla semplicità. È vero, ci mancano queste piccole cose che sono fondamentali. Direttore? No, stavo pensando, a parte le piccole cose che secondo me dovrebbero poi essere sempre la base della vita e della quotidianità. Cioè il solo svegliarsi. A volte invece che alzarsi alle 9 alle 10 del mattino, svegliarsi alle 5 potrebbe essere una cosa carina. La giornata parte presto, si può vedere il sole che sorge. Avere la voglia di alzarsi per costruire qualche cosa della propria giornata, della propria vita. Cioè essere un po' allo sbando con certi orari fa perdere anche i valori corretti. Quindi quando si segue il tempo della vita sarebbe meglio. Come dire, c'è la terra che ha certi orari. Non vai in campagna alle 10 del mattino, alle 11 del mattino. Devi seguire quei flussi che sono determinanti. Ma pensavo, riflettevo su un'altra cosa. Hai accennato forse al mare, all'inquinamento. Ora, noi nella nostra quotidianità non ci pensiamo. E mediamente, credo, per noi intendo le persone, la società. Ogni tanto vedi i documentari in cui ti fanno vedere queste isole, questi iceberg di plastica. Nel senso che vedi la plastica sul mare come punta di un iceberg, ma sotto è una cosa impressionante. E questo è il tema macroscopico. Cioè tu vedi quest'isola di plastica. Ma ciò di cui la gente non si rende conto. Perché queste isole poi sono lontane. Magari sono nell'oceano atlantico da qualche parte per cui le correnti formano queste isole. Che paradossalmente quasi si potrebbe disinquinare. Perché almeno sono aggregate. Però quello che la gente non vede è la microplastica. Cioè tutto ciò che è sciolto sono dei micron di plastica che noi comunque mangiamo. Quindi le persone non ci pensano. È più facile pensare, ma già non ci pensano, agli iceberg di plastica. Ma queste microplastiche non le vediamo, non ci pensiamo. E questo è un tema. Io non so perché la gente non pensi a tutto questo. Finché non colpisce se stesso. Nel senso che io vedo spesso che magari una persona quando sta male, pare brutto a dire, no, però ognuno di noi attraversa momenti di sofferenza, di malattia. E molto deriva da quello che mangiamo e da quello che respiriamo. Quindi nel momento in cui una persona affronta in prima persona questo malessere, automaticamente inizia a vedere delle cose che non vedeva. Io prima di fare questo brano non avrei mai raccolto, ma non perché ero cattiva, perché non avevo l'educazione, ecco una parola importante, educare, parlare, spiegare, dire ai ragazzi, alle persone, sensibilizzare. Adesso se vedo una bottiglietta per terra, io metto i guanti, la raccolgo e la vado a buttare. Quindi sono piccole cose che ci devono colpire in prima persona purtroppo. L'essere umano è un po' così, no? È un po' come quando i nostri atleti sono andati in Cina, che si trattava di nuotare in un mare che aveva dei colori da inquinamento. Cioè una cosa sconfinata e complicata, come lo stesso per determinate prove atletiche, in cui non si riusciva a respirare perché lo smog è così forte, tale per cui effettivamente è un problema. Lì forse qualche cosa in più lo si è visto, quindi mare inquinato, aria inquinata, rispetto al nostro inquinamento che ci sembra già grande, quello è proprio da non respirare. Quindi lì le mascherine si utilizzano per svariati motivi, non per il Covid. C'era già da anni l'utilizzo delle mascherine. È bello questo gancio che mi dai, perché durante il Covid, nonostante sia stato ovviamente il periodo più brutto degli ultimi, non so, 100-200 anni, abbiamo avuto un abbassamento delle emissioni di CO2, quindi abbiamo visto che si respirava un'aria migliore. Allora, la domanda che spesso mi fanno da quando ho fatto questo progetto, vivo nel mondo con l'ASVIS, e mi dicono, ma io che cosa posso fare nella vita di tutti i giorni? Perché è vero, è giusto, le persone devono capire cosa possono fare nel quotidiano, perché c'è chi fa questi discorsi grandi e chi realizza dei progetti in grande, è chiaramente noi che sotto dobbiamo fare rete e capire nel quotidiano cosa fare. Quindi, invece di prendere la macchina, un chilometro, facciamolo a piedi, ci fa bene alla salute, ne abbiamo bisogno perché siamo stati troppo fermi, e inquiniamo di meno. Quindi quelle piccole pratiche, quando ci laviamo i denti, invece di lasciare il rubinetto aperto che scorre, perché dai, alla fine è inutile dire, lo facciamo, l'abbiamo fatto un po' tutti, perché purtroppo siamo portati allo spreco, come pensare che siano infinite, le risorse sono finite. Il problema della siccità c'è in tutto il mondo. Siamo pieni di plastica, come diceva benissimo prima il direttore, e quindi dobbiamo avere l'attenzione, da questo momento in poi, assoluta. e non mi stancherò mai di dirlo, anche a diventare magari qualche volta noiosa, che dicono, eh vabbè dai, mo mi devi dire dove devo buttare la carta. La carta va nella carta, e la plastica va nella plastica. Beh, allora, prima di lasciare alla nostra pubblicità, riassumo questo dell'acqua nella banalità. Il micro comportamento, quello che tutti noi potremmo avere, è che se ci laviamo i denti, chiudiamo il rubinetto, perché sembrano frazioni, ma noi siamo comunque milioni di persone. Bravissimo. Il piccolo moltiplicato tutti noi fa molto. Invece il macro può essere che, per esempio, in Italia abbiamo gli acquedotti, che sono dei collabrodi. Si perde il 40% mediamente di acqua nei nostri acquedotti. Quindi i grandi fanno l'acquedotto nuovo, come un bel investimento, e poi l'Europa ci mette a disposizione dei fondi per ristabilirci dal punto di vista ambientale. Noi piccoli ogni giorno ci laviamo in un certo modo. E noi dobbiamo fare quei piccoli, grandi gesti di responsabilità quotidiana, perché è così, perché la società siamo noi. Ci fermiamo un attimo, rientreremo vedendo proprio il brano, il brano e il video, poi entreremo anche nel videoclip, lo raccontiamo, Vivo nel mondo, a tra poco con Radio Roma. Le meravigliose note, la voce di Pamela D'Amico, Vivo nel mondo, 15 e 25, siamo qui a Radio Roma. Pamela, abbiamo potuto vedere sul canale 115 del Digitale Terrestre anche il videoclip. Un videoclip molto interessante, bello, pieno di gioia, pieno di armonia con anche i bambini. Dove è stato girato intanto? Entriamo un po' nel dettaglio del video. Allora, al Teatro Arciliuto e ringrazio Giovanni Samaritani per averci offerto questa location magica. Tutti i ragazzi che si vedono sono tutti ragazzi, non sono attori, non abbiamo proprio voluto scegliere attori, abbiamo scelto gente, ragazzi, gente normale che ogni giorno vive il mondo, va nel mondo e viaggia nel mondo. E quindi sono volti genuini, veri, che hanno espresso proprio il loro desiderio e il loro amore per il mondo. e questo progetto non è mio, non è dell'ASVIS, questo progetto è di tutti, tutti, tutto l'Homo Sapiens, tutti gli abitanti del pianeta e ho sentito questa appartenenza. Infatti, voglio ringraziare veramente tutti quelli che ogni giorno mi mandano messaggi di stima e soprattutto condividono questo video. Quindi, mi fa capire ancora di più che il messaggio di condivisione e d'alleanza è stato recepito. Invece, i bambini sono stati meravigliosi, hanno ballato, hanno cantato, abbiamo fatto questa coreografia del mondo mondo. Gli avete lasciati liberi di esprimersi? Sì, sono stati bravissimi perché i bambini sono meravigliosi, sono il nostro futuro, il Next Generation EU, appunto, questa parola che è proprio il rilancio dell'economia italiana e loro sono la nuova generazione. Veramente una grande emozione rivedere il video ogni volta e che dire, veramente sono emozionata come se stessi oggi a realizzarlo. È un video che emana una grande energia, una grande positività, una grande speranza anche per il futuro. Si vive poco di speranza adesso, forse Pamela? C'è più rassegnazione rispetto alla speranza? Allora, io sono un'allegra di natura o questa malattia dell'allegria. Sono sempre positiva nel senso spirituale e vedo sempre il lato buono delle cose, vedo sempre il bicchiere mezzo pieno e credo davvero che la bellezza possa salvare il mondo. Anche di fronte al dolore che comunque ci attanaglia perché questo Covid ci ha creato una distanza enorme tra noi e il mondo. Credo fermamente che riusciremo entro il 2030 a realizzare gran parte di questi target, di questi obiettivi che ci siamo prefissati. Lo dobbiamo a noi e lo dobbiamo a loro che sono le nuove generazioni. Non lo dobbiamo fare per chi verrà dopo di noi che è proprio il concetto della sostenibilità cioè vivere il nostro presente senza pregiudicare alle generazioni future di vivere pienamente la loro vita. Quindi non soltanto più per il profitto economico ma assolutamente per il benessere dell'ambiente e dell'essere umano. Cioè finora noi siamo stati egoisti dobbiamo dircelo l'essere umano ha massacrato questo pianeta e oggi sta capendo che guarda caso questo dito che è puntato verso l'altro deve essere puntato verso se stesso perché la responsabilità è pienamente nostra e quindi dobbiamo prenderci questa responsabilità e con il sorriso raccogliere la plastica che è quello che hanno fatto i bambini al mare Alessandra. Mentre stavamo girando si sono fermati il regista che saluto Daniele Barbiero e si sono messi col sorriso a raccogliere la plastica che era nella riva sono rimasta sconvolta ho detto hai visto l'atteggiamento giusto qual è? Loro ce lo dicono loro ce lo insegnano. Io sposo completamente il tuo progetto la tua tematica perché è importante l'informazione è importante partecipavo negli anni 80 alle domeniche ecologiche di Lega Ambiente erano gli anni 80 ero giovanissima e si andava con palette rastrelli con situazioni a pulire Roma in particolare o il litorale sono state delle domeniche incredibili ero giovanissima quindi l'attenzione c'era però non è stata come dire convogliata forse nel modo giusto perché l'attenzione insomma c'è sempre stata in questi anni se ne sta prendendo coscienza adesso un po' di più in questi ultimi anni non voglio dire Paparelli se quando è andata lei c'era già la plastica perché forse beh io sì beh l'epoca romana è la mia quindi c'erano i ruderi e i reperti sicuramente complimenti però allora per come ti mantieni rudere che si mantiene abbastanza bene no semmai tornando seri e pensando ai bambini e ai comportamenti io non so se l'uomo sia semplicemente egoista o in molti casi sia banalmente stupido nel senso che l'egoismo avrebbe un taglio interpretativo la stupidità è un'altra cosa perché se andiamo in giro e andiamo in una montagna e si fa il picnic e si lascia lì tutto quello che si è mangiato la carta il pacchetto di sigarette la cicca il filtro della sigaretta oppure stessa cosa in spiaggia quella non so se definirlo l'egoismo banalmente stupidità perché è solo anche una norma di educazione e di comportamento anche indifferenza direttore qualcosa di peggiore dell'egoismo l'indifferenza sì perché a tutti piace arrivare in una spiaggia o in un bosco in montagna e vedere l'incanto del panorama e dello scenario quindi poi giustamente come forse dicevi è che uno punta il dito sugli altri qualcuno è stato e poi magari siamo i primi che non facciamo il nostro dovere quindi credo molto dovrebbe essere fatto da questi piccoli comportamenti che poi non costano veramente alcuna fatica credo in sé poi che le nuove generazioni bambini siano la chiave migliore per modificare i comportamenti quindi la parte dei governi che fa interventi su questa generazione e ancor più la scuola perché probabilmente dall'asilo alla primaria soprattutto poi proseguendo anche nelle medie eccetera ma soprattutto in questa prima fase da adesso dico da 0 a 10 12 anni che la scuola può veramente intervenire e formare il pensiero la mentalità delle nuove generazioni e i bambini in questo senso sono molto ricettivi sono delle spugne ci credono fortemente e sono in grado di influenzare i comportamenti degli adulti perché in casa ti iniziano a dire mamma perché non fai questo papà perché non fai quest'altro dobbiamo mettere la carta di là la lattina di qua e a torto ragione poi i genitori subiscono queste cose ma alla fine è il modo più sano per cambiare comportamenti che comunque non è che basti lo spazio di qualche anno qui servono poi delle generazioni sia per ripulire e riorganizzare il mondo ma anche proprio per formare la mentalità delle persone quindi veramente io credo sia una cosa 2030 obiettivi macro ma sono comportamenti che devono diventare decennali quindi 20 30 50 anni servono per modificare questi comportamenti sì e se mi chiedessero che animale sei io risponderei una formichina perché noi abbiamo sempre pensato in grande abbiamo sempre detto salviamo il mondo oppure andiamo a salvare il mondo chissà dove certo andiamo a salvare il mondo ma partiamo dal nostro giardino di casa partiamo dal fare la formichina ogni giorno una piccola azione aver ridimensionato questo dentro di me specchiandomi e vedendo questa grande l'umiltà che è una parola magnifica meravigliosa che ognuno di noi dovrebbe accogliere nella propria vita per veramente diventare migliore l'umiltà sempre dire oggi sono io qui e posso fare il mio e posso essere ad esempio per qualcuno pensiamo in piccolo non guardiamo l'orizzonte ampio perché altrimenti è come se dobbiamo studiare un esame con dieci libri non possiamo di certo farlo il giorno prima e guardare domani o l'esame però iniziare ogni giorno con una paginetta finché poi non sarai preparato tra che ne so tre mesi è vero quello che dici è corretto è giusto è verissimo nel caso dei libri per gli esami solitamente se tu hai libri da 600 800 mille pagine tu lo spacchetti dici quanto tempo ho 30 giorni va bene allora diciamo che devo fare una prima lettura in 15 giorni poi ho altri 10 giorni per la seconda lettura e l'ultima magari 5 giorni per fare un ripasso ancora più specifico e quindi vai a spacchettare in piccole azioni un tot di pagine oggi e costruisci pagina dopo pagina è una questione di metodo anche in questo caso uno non può affrontare la pulizia del mondo da un giorno all'altro ci sono delle situazioni macro uno dice che so c'è l'impianto per la produzione dell'acciaio dove puoi fare degli interventi macro come quello che dicevo gli acquedotti puoi intervenire in un certo modo ma poi non è che lo fai da un giorno all'altro anzi l'idea da un giorno all'altro i grandi annunci sono proprio quelli che fanno sì che nulla cambi sì perché oltretutto se non cambiano gli investimenti a monte ci saranno sempre investimenti sui carboni fossili e quindi se continuiamo a investire su queste energie inquinanti non entriamo mai nell'economia circolare che invece è quella che ci salverà che si auto rigenera appunto dobbiamo investire sulle energie rinnovabili sì la mobilità elettrica sulla mobilità elettrica anche il discorso dei carboni fossili per carità uno è se hai il carbone e tra l'altro poi si pone un problema di equilibri a livello mondiale perché gli ultimi arrivati tipo Cina e India ti dicono io arrivo oggi e non mi puoi mettere a livello dei paesi più virtuosi perché devo fare una certa strada eccetera comunque anche l'utilizzo di certi combustibili tipo il carbone beh può essere migliorato da filtri da tante accortezze come il discorso delle energie alternative esiste il vento esiste il solare ma se andassimo a vedere anche il diesel in sé per carità facciamo la transizione sì ma il diesel per certi versi nell'automobile è più pulito della benzina classica quindi far sparire il diesel da un giorno all'altro non so se sia la cosa più sensata quindi secondo me ci vuole veramente senso della misura e un progetto a medio-lungo termine su ogni cosa per cambiare i comportamenti e ci vuole la musica di Radio Roma però anche anche assolutamente anche io ti chiedo anche beh ci dobbiamo fermare però abbiamo il tastativo ma siamo qui ancora con te tra poco su Radio Roma eccoci rientrati 15.43 Radio Roma Magazine su Radio Roma abbiamo ancora Pamela D'Amico qui in studio ospite e fra qualche minuto ci salutiamo ci lasciamo ma non prima di aver detto e dato un tuo pensiero sui luoghi di cultura che si riaprono allora live che ricominciano festival però anche teatri cinema Pamela che bello che bello cosa aggiungere meraviglioso non vedo l'ora di rivedere questi teatri pieni sia al chiuso che all'aperto ovviamente distanziati continuiamo a avere sempre le mascherine a stare attenti laviamoci le mani però abbiamo bisogno di stare insieme di riassaporare i live io ho un grandissimo desiderio di stare sul palco anticipo che stiamo organizzando degli eventi spero che siano sempre più perché comunque abbiamo bisogno di questo e la musica l'arte può veramente in questo momento risollevarci sia per chi la fa che per chi l'ascolta intanto perché è una delle categorie di settore davvero messa a durissima prova ma poi veramente come hai detto tu è un grande messaggio proprio che parte dall'arte di speranza di positività e di riapertura e di vita sì su questo sono felice perché comunque credo che quest'estate possa essere veramente di nuovo viva e anche festival ci sono dei festival che comunque piano piano ripartiranno e quindi spero di incontrarvi e incontrarci dietro le quinte di qualche bellissimo evento ci saremo teatri che poi anche il teatro è molto bello devo dire è un luogo dove si esprime una forma d'arte che è molto interna dell'artista quindi unire anche il teatro comunque con il canto spero che accadano sempre più progetti ora la gente ha proprio voglia di uscire sì assolutamente c'è voglia sento proprio un fermento una voglia di rinascita e questo è bello dai diciamo come un post come un dopoguerra è come un dopoguerra la sensazione è quella poi alla fine si riparte veramente dal dopoguerra hai detto bene Pamela noi ti ringraziamo di essere stata qui con noi a Radio Roma grazie che dire grandi progetti buona musica buon lavoro Pamela D'Amico grazie ancora grazie a te grazie a voi di questo invito bellissimo un abbraccio abbraccio molto obrigada per tutti a gente si incontra a te a prossima brigada che meraviglia grazie Pamela D'Amico a presto grazie